Ciao a tutti da Vittorio, prima di parlare di Raul Moro volevo soffermarmi un po' sull'Italia perché ieri Ciro Immobile non ha giocato eppure l'Italia ha perso malamente contro la Spagna per carità la Spagna è una squadra fortissima e ci ha già messo in difficoltà però tutti quelli che criticavano Ciro Immobile perché con Immobile l'Italia non segna, non riesce a creare eccetera ieri Immobile non ha giocato, gli attaccanti italiani non si sono visti, grandissimo Raspadori 0, Keen che è un fenomeno eccetera anche lui 0 sarebbe bello se qualcuno facesse mea culpa e ammettesse che Ciro Immobile è il più forte da mezzo purtroppo lo schema di Roberto Mancini penalizza i centravanti e punto Immobile è semplicemente più forte attaccante italiano e semplicemente penalizzato dai schemi di Roberto Mancini ma in questo video non volevo parlare di questo, volevo parlare di Raul Moro sapete tutti, seguo il giocatore spagnolo dal primo anno alla Lazio e finalmente è stato convocato nell'Under 21 spagnola segno secondo me molto importante e ieri è stato intervistato da Marca che sarebbe la Gazzetta O Sport italiana tra parentesi la Gazzetta O Sport è proprietaria di Marca e lo spagnolo ha detto tante cose interessanti che la scelta di lasciare a Spagna è stata giustissima anche perché è un passo importante però ti aiuta anche a crescere ancora di più e poi vabbè spagnolo e italiano sono molto simili lui ha detto che dopo tre mesi parlava benissimo italiano io sono convinto che nello spogliatoio della Lazio si parli un mix fra spagnolo e italiano per questo per lui è facile ma ha detto una cosa che secondo me è molto molto importante non solo per adesso ma per il futuro di Raul Moro alla Lazio e la Lazio in generale ovvero Raul Moro ha detto Maurizio Sarri crede tantissimo in me non mi vorrei sbagliare ma sono esattamente le stesse cose che ha detto Pedro Neto di Simone Zaghi no assolutamente no Pedro Neto ve lo ricorderete lo scorso anno di Simone Zaghi non credeva assolutamente in me ecco differenza abissale Pedro Neto era un talento che la Lazio ha lasciato andare via so che molti di voi dicono che in realtà non era della Lazio eccetera eccetera però tu ce l'hai in squadra un talento del genere lo fai giocare perché ti fa vincere le partite bene, Maurizio Sarri crede in Raul Moro tant'è che lo spagnolo ha già giocato tantissimo quest'anno ha giocato molto 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 di più degli ultimi due anni con Simone Zaghi ma ha giocato tanto, è partito anche titolare deve crescere perché ovviamente fisicamente soprattutto non è ancora pronto per la Serie A però è un talento e Sarri che è un allenatore intelligente ha capito che nonostante sia giovanissimo Raul Moro può essere un grande talento, un giocatore molto utile alla Lazio perché ha qualità perché è un giovane veloce tecnico insomma è un giocatore che ovviamente più gioca più migliora e può diventare forte e quindi più utile alla squadra e quindi Maurizio Sarri dà spazio a Raul Moro e Raul Moro ovviamente se n'è accorto ha detto che Maurizio Sarri crede tanto in lui e lui per questo cerca in allenamento di migliorarsi sempre per rispondere presente e insomma ripagare la fiducia di Maurizio Sarri che lo sta facendo giocare Europa League, campionato e questo ragazzi è quello che bisogna fare con i giovani calciatori perché è vero allenarsi con i campioni sicuramente è utile ma poi la partita è completamente differente dall'allenamento l'allenamento c'è un'altra intensità c'è anche un'altra tensione perché in allenamento si è molto più tranquillo in partita davanti al pubblico magari la squadra ospite di Fischia eccetera eccetera è tutto molto complicato ci sono tantissimi giocatori che in allenamento sono dei fenomeni la domenica in campo sono dei fantasmi ecco per questo Raul Moro deve giocare per questo Maurizio Sarri lo fa giocare e vedete che piano piano i risultati arriveranno parliamo di un giocatore secondo me dalla qualità incredibile molto veloce per cui secondo me adatto nel 4x3 perché il segreto del 4x3 di Sarri è creare la superiorità numerica sulle fasce ovvero avere dei sterni alti che vincono il duello con il tersino avversario e poi entrare in aria o passarla al centro e Raul Moro ha queste caratteristiche ha queste qualità l'unica cosa che ho sempre detto che manca a Raul Moro è oltre al fisico il tiro in porta troppe volte anche nella Lazio Primavera io ho visto fare dei dribbling pazzeschi arrivare davanti al portiere e tirare malamente fuori questa è ovviamente una cosa che deve migliorare Raul Moro perché in serie A segnale diventa ancora più difficile poi sul fisico io ho detto che è piccolino però è anche vero che se Raul Moro mettesse su 20-30 kg perderebbe velocità quindi dobbiamo trovare un punto di incontro non può mettere su 30 kg ovviamente deve cercare di mettere un po' più di massa di muscolatura perché in serie A i contrasti sono decisamente più duri rispetto alla serie A però io sono contento di queste dichiarazioni di Raul Moro perché se lo dice il calciatore è così da fuori a noi ci dà l'impressione che Sarri dia fiducia al giocatore però sai uno spogliatoio può succedere può essere l'opposto invece il fatto che Raul Moro è quasi sempre il primo cambio in avanti è sicuramente un fattore importante parlando di attacco è anche importante che ieri Zaccagni è tornato ad allenarsi ovviamente il ritorno di Zaccagni un po' di spazio lo toglierà al Moro ma soprattutto a Luca Romero però è sicuramente un ritorno importante Zaccagni non è partito benissimo quest'anno con la Lazio a mio avviso è un po' in difficoltà con i schemi di Sarri però è sicuramente un innesto importante un giocatore che la Lazio deve cercare di inserire per far rifiatare Pedro e Felipe Anderson per cui il suo ritorno è fondamentale soprattutto senza dimenticarci che settimana prossima c'è l'Inter insomma una partita molto molto complicata che la Lazio deve cercare di vincere se è possibile per cui il ritorno di Zaccagni è importante vedremo se anche Ceri Mobile riuscirà a recuperare per quella partita ciao alla prossima Ceri Mobile riuscirà a recuperare per la partita